Bene a tutti ragazzi, sono Raffaele. Oggi faremo l'obbligo verità. Challenge! Qua c'è Federico. Guardatevi ragazzi, è anch'io. Sono forte. E poi ci sono io. Una volta! Ciao! Oh, si rompe quella porca! Ma porca! Adesso mi cazzo! No! Adesso mi cazzo! Porca gioia! Dovremmo tagliare questo pezzo. No, non si taglia niente. Scusa, è il pezzo dove... Dove... Si è bucata. Vedete che si è bucata anche sopra adesso? Oh no, è colpa mia. Non è vero! È colpa di Federico! Dai! Non è colpa mia! Ecco il pezzo! Non è colpa mia. Non è colpa mia! Certo che ho studiato! Stai raggiungendo più! Nessuno mi vede! Io non ti vengo da... Allora... Raffae! 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 Però Fede se... Aha! Tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata! Aspetta! Carina, mi vuoi fare un po' un po'? Lui è lo youtuber! E io! No! Anche voglio tagliare. Sì, va bene! Sì, vai! 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 Va! È niente ragazzi. Cominciamo. Allora, chi comincia? Chi comincia? Non ci si sa! Vieni ragazzi, cominciamo! E io non faccio YouTube! Ragazzi sono qua! Incomincia ragazzi! Incomincia! Incomincia Raffaele! Ok, ho detto verità ragazzi! Obbligo! Perfetto! Devi! Devi! E' un schiaccio di rumore! Devi fare una rota! Vai! 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 Che angelo sarebbe proprio! E' molto dure! E' molto dure! Sì! Ma no! Guardate come ce l'ho fatto! Mi faccio vedere io! Ragazzi quello là è l'affa che fa la capriola! Guardate Pagli! Annesca io fa so! C'è l'ho riguarda! Ok! api tieni api come api api oh mio dio oh mio dio oh mio dio entrati in aspettato ah ah guarda lei come si gioca ma è entrata aiutatemi sono entrata in aspettata ah 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 è incontro del cartico non c'è no è Leonardo che è giro ah ah e ti sei spaventato e ti sei spaventato il campione a me mi fanno poco i gatti un campione come te si spaventa che non chiedi dai due apri cammi 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 qui cammi qui no no lascia lascia no no che dopo 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 ti prego ma non credo mettiamo di carbonio tu credi che non la fa male tu credi che non la fa male tu credi che non la fa male Sari pera questa Sari pera questa dai fede un campione dai campione dai campione c'era c'era un sei coraggiosissimo che gli fanno problemi ovviamente i canni per questo oh questo video potrebbe durare la capito di 10 minuti la capito di 10 minuti eh volatelo non ho neanche detto obbligo verità dai dimmelo si obbligo verità mi devi dire che tu hai dirlo obbligo verità allora non vuoi fare questo vai vai 10 secondi ci penso io no senza mortiere va bene no senza mortiere no senza mortiere ti faccio segnare ti faccio segnare eh ho capito possiamo io dai tu hai già chiesto obbligo verità ci penso io dai la telecamera Fede dai dai la telecamera ok ok se dai la telecamera si vede fatto giralo così Fede mettilo così vai 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 nooo zitto che tu ma quali sai fare io si zitto dai dai la palla ecco ecco solaia che non riesce neanche a fare un gol ah ah dopo vediamo te a fare gol va bene no palo 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 è andato al palo e poi è andato dentro ok 1 1 solaia mancano altri 8 no ecco 9 oh 8 bello ho già fatti 2 9 9 vai vuoi vai ecco la risposta che si muoce malo malo vedeti sei visto solo tu dammi il pallone nooo ecco le raga Il pallone dentro si trova molto oscena Vai Quello è il gol Non lo fai Solo uno Ben Stata ferma Sì, ho fatto il gol Ho fatto il gol Due Sì, ok Due, c'era due Perfetto, c'era due Raga, facciamo dieci minuti solo così Tagliamo Non c'è fiega Raga, facciamo un video Basta Sì, 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 sì Sori, sori, fai l'outro Raga, ci vediamo domani con un nuovissimo video Anche se per noi sarà Anche se per noi sarà Oggi Ma va bene lo stesso, ciao